P-Cart è una PMI innovativa nata nel 2014 e si occupa di computer vision, l'artamento aumentata e intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare dei prodotti che possono essere utilizzati nell'ambito tessile. Nello specifico il progetto Prisma ci può aiutare a inserirci in un nuovo mercato che possa valorizzare maggiormente una nostra tecnologia brevettata. Noi abbiamo un brevetto che si chiama P-Cart è del logo che permette di nascondere un codice univoco all'interno dell'immagine. Quindi in un mercato in cui ci sono 29 miliardi di vendite perse per la contraffazione, questa tecnologia può aiutare a verificare l'autenticità di ogni singolo prodotto.